NR-Service, riparazione e vendita di ricambi e accessori per elettrodomestici. NR-Service è centro di assistenza autorizzato per gli elettrodomestici Indesit, Hotpoint Ariston, Scholtes, Smeg, Franche, LG, Liber, Amana, Pulti, Saeco e vende ricambi e accessori originali. NR-Service è autorizzato dalle case madri a intervenire anche oltre il periodo di garanzia dell'elettrodomestico, poiché organizzazione da queste è riconosciuta e abilitata.